La Lega Pro torna al criterio orizzontale per suddividere i tre raggruppamenti che si sfideranno nella stagione 2021-2022 per i quattro posti in cadetteria e definire chi abbandonerà il mondo dei professionisti. Ieri il Consiglio Direttivo ha modificato la struttura dello stivale per l'individuazione del modo con cui definire i gironi A, B e C. Lo ha fatto all'unanimità, con la necessità di contenere i costi, soprattutto dopo una stagione piegata dal Covid, facilitando gli spostamenti delle società e riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. La decisione del Consiglio è stata presa dopo il lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la Composizione dei Gironi, che ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio. Sulla base, infatti, della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi fatte hanno evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi, prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale. Il Direttivo ha valutato anche la possibilità di un sorteggio integrale dei gironi, così come quella di un sorteggio basato su fasce di ranking. Sempre dai dati disponibili, tuttavia, è stato possibile constatare come attraverso un sorteggio la possibilità di ottenere costi complessivi superiori a quelli associati alla configurazione orizzontale fosse altamente probabile. Il percorso intrapreso dalle società, ha detto il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha permesso di trovare una soluzione pienamente condivisa con una decisione democratica e responsabile. La sostenibilità economico-finanziaria del sistema ha guidato qualsiasi valutazione e ringrazio, continuato Ghirelli, il direttivo e la commissione perché hanno operato in modo rapido e avveduto, comprendendo il momento storico che stiamo attraversando. Adesso parte la corsa all'individuazione delle partecipanti ai raggruppamenti con Pescara e Teramo, che dovrebbero finire accoppiate, ma c'è ancora da vedere in quale girone. E allora si guarda le retrocesse dalla B, e il Pescara è una di queste, ha le potenziali candidate a vincere il proprio raggruppamento in Serie D. Il Cosenza andrà certamente nel C, al sud, mentre la Virtus Entella sarà nel girone A, al nord. Probabile che anche la Reggiana possa essere inserita nel raggruppamento settentrionale, ma è una di quelle squadre in ballottaggio per finire al centro. Passiamo alle possibili promosse della quarta serie, per cui mancano in molti casi le ufficialità. Al nord finirebbe il Gozzano, primo nel gruppo A di Serie D, il Seregno, capolista nel gruppo B, e il Trento, prima della classe nel gruppo C. Nel raggruppamento centrale ci sono Aglianese, Aquila e Montevarchi, che qualora vincessero il campionato andrebbero nel B. Poi c'è il Campobasso, che sulla carta sembrerebbe potenzialmente adatto per il raggruppamento meridionale, mentre il Monterosi, che invece ha vinto il girone G, pare più adatto a terminare al centro. Una tra Taranto e Picerno comunque andrà al sud, nel girone H, così come la CR Messina. Infine manca la vincente dei play-off di Lega Pro. Chiunque vinca lascerà una casella vuota da riempire, e allo stato attuale le rimaste in corsa sono o da girone A, su Tirol, Feral, Pisalò, Alessandria, Renate, Padova e Albino Leffe, o da girone C, Avellino e Catanzaro. Se una di queste dovesse essere promossa, la geografia del meridione potrebbe essere rimodulata, spostando una rappresentante del centro al sud. Considerazioni queste che non tengono poi conto della scadenza del 28 giugno, quando ci sarà il termine ultimo per le iscrizioni, e successivamente, in caso di qualche forfè, dei possibili rivescaggi. Insomma, per sapere chi andrà dove, c'è da attendere luglio e le relative ufficialità.